Dalla via ufficiale del cantiere per la realizzazione del raddoppio del ponte ferroviario sul Brenta a Vigo d'Arzare, opera fondamentale per i collegamenti su rotaia che arrivano da fuori regione, al tavolo tecnico operativo in comune a Padova per l'alta velocità. Quella di ieri è stata una giornata importante per la viabilità ferroviaria che riguarda la provincia di Padova. Dopo la cerimonia ufficiale a Vigo d'Arzare che ha segnato l'inizio dei lavori per realizzare quello che sarà il nuovo ponte accampata più grande d'Italia, la vicepresidente della regione Elisa De Berti e il commissario per l'alta velocità Vincenzo Macello si sono spostati a Palazzo Moroni con il sindaco Sergio Giordani per fare il punto sulla nuova linea di alta velocità, alta capacità in arrivo da Vicenza e il nuovo assetto della stazione di Padova. No, è importantissimo in quanto va a toccare tutta Padova, la cella, mi ricordo che la stazione sarà bifacciale per cui sarà rivolta verso la cella. L'alta velocità arriverà sul binario 8-9 proprio verso la cella. È un'opera importantissima che si concluderà in 6-7 anni ma in 6-7 anni Padova cambierà volto perché tra tram, alta velocità, stazione, questure, due linee di tram, ospedale io penso che Padova cambierà in maniera radicale. Il progetto del tracciato definitivo sarà pronto entro il prossimo aprile. I binari dell'alta velocità saranno collocati nella parte nord della stazione, come ha spiegato il sindaco, per permettere poi un collegamento immediato con la linea alta velocità Padova-Mestre già in servizio. In particolare bisognerà garantire che i collegamenti per Milano e Bologna non interferiscano con i binari della linea storica e quelli per Campo San Piero, Castelfranco e Belluno. La soluzione allo studio prevede un tratto che scenda sotto il piano campagna in galleria artificiale a Y per realizzare la connessione tra le due linee ed evitare ogni interferenza con quelle esistenti. I binari dell'alta velocità risaliranno poi a livello degli altri in ingresso della stazione di Padova. Come già previsto, il riordino del piano binario della stazione prevede anche la demolizione e la ricostruzione del cavalcavia Borgomagno.